Perché questa è una cosa da veri criminali, non credo che uno Stato civile possa ammettere queste cose. Operai della Treofan in assemblea permanente dopo lo slittamento del tavolo di confronto al Ministero dello Sviluppo Economico, convocato per oggi e rimandato a gennaio. Alla base del rinvio l'assenza, comunicato ufficialmente ieri, della Jindal, la multinazionale indiana che ha rilevato Treofan per l'esigua cifra di 500 mila euro. Una notizia che ha messo in agitazione i 78 lavoratori dell'impianto di Battipaglia che chiedono garanzie anche in virtù del piano industriale presentato dalla multinazionale indiana, che darebbe un quadro non veritiero della situazione economica dell'azienda. In effetti noi di passività non ne godiamo, anzi sono anni ormai che i lavoratori percepiscono regolarmente quello che si chiama premio di partecipazione, premio obiettivo, premio di risultato, come lo vogliamo chiamare. che è il riassunto della salute economica di uno stabilimento. E Battipaglia lo ha sempre preso, da anni, ormai è una cosa consolidata. Se voi pensate soltanto che in questo periodo io e il collega dell'RSU non eravamo impegnati in questo, ma in trattative con l'azienda per vedere di spuntare, di far venire i lavoratori, il giorno di Natale, due ore dopo l'inizio del turno, due ore prima, e ora ci troviamo a discutere questo, a qualche giorno di Natale, lo reputiamo un paradosso, ma il paradosso sta nel fatto che questi parlano di assenza di ordini, non è vero, falso, sbagliato, bugia. Abbiamo degli ordini che ci permettono di lavorare fino a giugno, non abbiamo le resine. Se mandano due tir di resine, fra due ore facciamo già la prima bobina, già può partire. Abbiamo dovuto evitare dei saccheggi veri e propri, una flotta, 17 tir che volevano caricare il materiale in magazzino, pronte per essere spedite a dei clienti. Noi abbiamo dei clienti a 100 km da qua, 70 km da qua, volevano fare questa assurda pratica di prendere il materiale e portarlo in Germania e poi rispedirlo un'altra volta ai clienti. Non troviamo una spiegazione, non troviamo un nesso logico, anche su queste perdite che loro parlano. Le perdite non sono per il gruppo Italia, abbiamo preparato un documento, dove l'assemblea dei soci di management capitali, che ha ceduto a Gindal, ha svenduto, anzi ha regalato, perché lo dice addirittura un socio che è stato regalato a questo gruppo indiano, vogliono capire il perché è stato svenduto innanzitutto da una cifra irrisoria, 500 mila euro. Stiamo parlando di un gruppo che comprende uno stabilimento a Battipaglia, uno stabilimento a Terni ed uno in Germania, dove solo in Germania, qualche anno fa, l'anno scorso, è stata andata in produzione una linea che è costata 32 milioni di euro. Questi hanno pagato questo gruppo con 500 mila euro, quindi stiamo al paradosso più assoluto. Parlano di poche performance, ma di che cosa vogliono parlare? Lo stabilimento di Battipaglia, il rapporto chili-prodotti rispetto al costo, è quello che sta messo meglio. Parliamo di 0,48 centesimi al chilo, la produzione a Battipaglia, contro gli 0,80 già di Terni ed è la Germania. Quindi rispetto a tutto il gruppo siamo i meglio messi. Dal punto di vista istituzionale che risposta avete avuto? Abbiamo avuto, a partire dal comune, delle delibere comunali di appoggio. La sindaca ieri sera è stata da noi e ci ha confermato l'appoggio di tutta l'assemblea comunale. la provincia, la regione, c'è stato un incontro di regione la settimana scorsa dove ha ribadito l'appoggio. Abbiamo avuto la visita dell'Asi che ci ha confermato l'inserimento dello stabilimento di Battipaglia nella Zess. Grazie. Grazie. Grazie.